Cominciamo dall'Ariete. Grande feeling con partner e momento buono per nuove conquiste. Anche al lavoro è prevista una sorpresa inaspettata che vi farà affrontare con il sorriso le ferie in arrivo. Toro, il periodo non favorisce i momenti di riflessioni. L'oroscopo giornaliero consiglia in amore di fare il punto della situazione, analizzando per bene le cose che vanno e soprattutto quelle che non vanno. Gemelli, bene il rapporto con gli amici, soprattutto quelli più vicini. La giornata sarà cadenzata da momenti abbastanza stressanti. In amore dovete impegnare più tempo con il partner per risolvere situazioni legate alla gelosia. Cancro, se proverete a impegnarvi in questa giornata, anche voi riuscirete a essere più intuitivi e a comprendere al volo cosa le persone cercheranno di ottenere da voi. Leone, se avete un traguardo ambizioso da raggiungere o un affare d'oro da concludere, è il momento giusto. Programmate per bene le vostre azioni in modo da arrivare al dunque in questa giornata, che è favorevolissima. Vergine, bisognerebbe comprendere che certi sfizi è meglio non togliersili o meglio sarebbe bene attendere ancora. Anche se vi negate sempre tutto, non è vero che ogni tanto non vi viziate un po'. Bilancia, uscendo dalla routine, il rapporto col partner si rasserena, anche se rimangono zone d'ombra. Riuscirete a essere più partecipi delle vostre e delle altrui necessità. Le relazioni ne trarranno profitto. Scorpione, basterà tenere alta la guardia nelle questioni lavorative, mostrarvi elastici nei rapporti, rallentare i ritmi quotidiani e stare leggeri a tavola. Sagittario, giornata molto benevola per quanto riguarda la sfera professionale. Brillanti passaggi planetari segnalano la possibilità di realizzare progetti importanti. Se siete single, non lasciatevi sfuggire l'occasione di un incontro. Capricorno, giornata non troppo positiva. Il tempo che avete a disposizione è poco e dovete sfruttarlo bene. Se il vostro umore vi sorreggerà abbastanza, potrete risolvere i diversi problemi che vi si presenteranno. Acquario, potete benissimo cedere sotto il peso delle emozioni in questa giornata, tanto non c'è motivo di essere troppo arrabbiati con se stessi per non averlo fatto prima. L'importante è prendere il momento giusto. Pesci, una giornata densa di opportunità e ricca di incontri. Magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno con un vecchio amico che vi sorprenderà favorevolmente. In campo professionale, ipotesi di aumento di stipendio, ma dovete presentare un progetto brillante.